il coach e learning è una straordinaria opportunità per te e la tua organizzazione l'ho sviluppato in questi anni per venire incontro alle esigenze dei miei clienti che trovano sempre più difficile togliere le persone dal lavoro quotidiano per mettere in una classe di formazione in realtà la prima risposta furono i video corsi online funzionano ma solo fino ad un certo punto sono degli ottimi strumenti di apprendimento ma in alcuni casi serve di più pratica e feedback ecco dunque il coach e learning nella formazione normalmente ci sono tre dinamiche un passaggio di informazioni ai partecipanti l'opportunità di provarle in prima persona e infine un feedback dal formatore o coach la prima parte si ottiene grazie ai video corsi con tutti i benefici che offre le learning puoi seguirli quando vuoi al tuo ritmo e quante volte vuoi la seconda parte l'esperienza in prima persona viene assegnata con l'on the job training ad esempio se si tratta di public speaking ti verrà chiesto di preparare e tenere una presentazione meglio ancora se possibile di applicare i nuovi concetti appresi ad una presentazione di lavoro e di registrarla la terza parte consiste nel rivedere la presentazione assieme e valutare sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare e creare un piano d'azione in sostanza il coach e learning offre il meglio dei due mondi impari con il tuo ritmo e di tuoi tempi insieme con l'esperienza diretta ed efficacia di tradurre subito la teoria in pratica nel quotidiano provalo ora tu stesso